attenzione annuncio squalifica l'atleta Francesca Giro che ha nuotato in corsia due nella serie due è stata squalificata per nuotata irregolare partita la prima serie Sara Trevisanna Alessia Amadio Laura Sossai Erika Visintin Andrea Frigo Giorgia Lipicar a contendersi le tre medaglie di questa specialità il miglior tempo di Viola Salvetti fino a questo momento uno undici e diciannove è il tempo di riferimento da battere passaggio più veloce di Laura Sossai trentadue novantadue Andrea Frigo trentatré cinquantacinque Sara Trevisan trentatré e settantadue Tutte atlete classe novantasette quelle in acqua con Laura Sossai ancora avanti dalla terza corsia alla portacolori della Rana Azzurra sono ai blocchi intanto Luca Dallariva Triestina in due Leonardo Pellizzon Ginnasio Pordenone in tre Niccolò Perin Veneto Banca Montebelluna in quattro per la settima serie ragazzi mentre Laura Sossai rimane al comando e va a vincere uno zero sette sessantaquattro Laura Sossai uno zarotte ottanta Grazie.